Buongiorno Donetta Mustari a Sorbise, oggi fa i cento anni, a chi vuoi salutare? Io a tutti i parenti miei che sono presenti qua e quelli assenti pure, che mi vogliono tutto, mi hanno voluto tutto bene, la nostra intera famiglia è assombo. Complimenti per i cento anni e ti auguriamo di viverne ancora tantissimi insieme alla tua famiglia. Sei contenta? E oggi sei vicino al caminetto e stanno venendo tutti i bambini dell'asilo, della scuola a trovarti, sei contenta? Grazie, ringrazio tutti i miei parenti, anche i bambini. Un abbraccio da parte di tutti noi e ti auguriamo tanta, tanta salute. Grazie. Buona giornata. Grazie.